Buon pomeriggio a tutti, faccio parte del centro di ricerca sul consumo di suolo da un paio d'anni e mi preme sottolineare che l'attenzione da almeno il 2014 nei nostri rapporti è fortemente incentrata al tema qualitativo che è stato già introdotto, in particolare quello di cui discuteremo adesso in questa sessione, in particolar modo che è quello dell'integrazione dei servizi ecosistemici negli strumenti di pianificazione territoriale e forse questo è un tema che è diventato in maniera prepotente molto attuale non solo per il tema dei servizi ecosistemici stesso che è posto molto all'attenzione soprattutto della ricerca in questo momento, meno dell'opinione pubblica rispetto al consumo di suolo ma che forse può essere un'importante chiave di lettura per il buon governo del territorio, la salvaguardia degli usi del suolo e quindi la limitazione del consumo. Ho rubato una slide a Luca Montanarella che per fortuna non c'è e che riparte proprio da quelli che sono stati considerati dalla Commissione gli elementi e i servizi e le funzioni ecosistemiche che il suolo svolge a supporto del benessere umano e che vengono richiamati all'interno di quello che è un po' il quadro della disciplina della Commissione su il governo dei consumi di suolo che è questa roadmap che dovrebbe portarci entro il 2050 ad avere un consumo netto pari a zero. Dico netto perché in realtà l'idea della Commissione è che delle variazioni possono comunque esistere però il bilancio complessivo tra quello che tolgo di antropizzato e metto di antropizzato dovrebbe rimanere un saldo pari a zero. Tema dei servizi ecosistemici che diventa fondamentale proprio per questa integrazione qualitativa rispetto a una mera quantificazione dei consumi di suolo. Perché? Perché la bibliografia ma ormai anche la ricerca direttamente applicata al campo del governo nel territorio ha messo in luce come la qualità dei suoli quindi la loro funzionalità ecosistemica sia fortemente di supporto alle politiche di limitazione, mitigazione e compensazione perché c'è suolo e suolo. Consumare 50 ettari di una tipologia di suolo non equivale a consumarne altrettanto 50 di altro tipo. I servizi che vengono di approvvigionamento, supporto, fornitura, regolazione che vengono garantiti dal suolo sono molto diversi e quindi la spazializzazione di queste funzionalità ecosistemiche è diventato un tema molto importante. Ovviamente tratto due casi di studio perché mi hanno visto direttamente coinvolto come ricercatore, sono due casi di studio importanti perché mi hanno dato diciamo sulla persona la possibilità di capire come il rapporto tra servizi ecosistemici e mappatura diventa fondamentale di supporto per l'azione pianificatoria. Antepongo però alcune riflessioni che derivano proprio da questi affondi di ricerca che sono la prima cosa quando si parla di servizi ecosistemici. Quale tipologia di servizi andiamo a mappare? Perché ogni progetto, ogni tipologia di approccio progettuale può richiedere differenti famiglie ecosistemiche che possono essere tenute in considerazione. La scala stessa con cui vengono indagate e rilevate può essere molto importante. Quali approcci metodologici? Quindi rispetto alle tipologie metodologiche in particolar modo mi riferisco alla più consolidata tradizione di associare un valore statistico di un certo servizio ecosistemico a una copertura d'uso del suolo rispetto a sistemi più distributivi quindi georeferenziati che ci danno la possibilità di vedere come la distribuzione spaziale dei servizi. Cosa che per noi pianificatori, io parlo da pianificatore degli usi del suolo che è studioso dei servizi ecosistemici è probabilmente la chiave di volta perché come dire non è solamente importante sapere qual è lo stato, lo stock di un servizio ecosistemico sia esso un valore biofisico di indice o assoluto. Ma è anche importante capire come si distribuisce proprio per i ragionamenti che sono stati fatti da chi mi ha preceduto cioè dal punto di vista della pianificazione del progetto del territorio capire come si distribuiscono i fenomeni probabilmente è ancora più importante che capire in che quantità stiano avvenendo o comunque sono due cose complementari. Altrettanto importante poi capire una volta che si giunge a delle mappature come trasformare queste mappature in strutture, le chiamerei così, di progetto nel senso che su questa partita non esiste una metodologia consolidata quindi è una strada che si va costruendo, che si va appunto affrontando cercando un po' di interfacciarsi con chi prima di altri e credo che in questa platea, in questa parte, si siano diciamo abbastanza dei protagonisti che hanno vissuto una fase di progettazione quindi hanno integrato i servizi ecosistemici all'interno della pianificazione e alle differenti scale. Allora io me ne sono occupato all'interno di un caso di studio che viene chiamato progetto Soil Administration Model for Community Profit che è un progetto LIFE i cui partner sono quelli rappresentati in questa slide in cui il tentativo di utilizzare dei software anche per la mappatura perché mappare i servizi ecosistemici significa anche utilizzare tecnologie di software piuttosto avanzate che richiedono una quantificazione di dati di ingresso per questi software molto complicati anche da reperire e che hanno richiesto in questo caso di ricerca più di due anni anche abbondanti di continui adattamenti e mutamenti proprio per capire in che modo i dati di input generassero output diversi di mappatura e vado piuttosto veloce perché poi non è come dire il commento di merito delle mappature ma mi interessava fissare alcuni elementi di metodologia per condividerli con chi mi seguirà poi nei prossimi interventi perché come dire nella mappatura di alcuni servizi ecosistemici fatti con un software abbiamo avuto come dire degli output che ci hanno permesso piuttosto direttamente di capire come la distribuzione di alcuni servizi fosse direttamente scalabile poi ai processi di governo del territorio nel senso che poi l'unità, il pixel di rilevamento era piuttosto adeguato a capire come all'interno delle zone delle trasformazioni dei piani questo progetto di ricerca produce varianti ai piani urbanistici locali e credo che sia uno dei pochi progetti europei che ha come ambizione quella proprio di produrre varianti urbanistiche quindi varianti cogenti direttamente rispetto alle tipologie e alle destinazioni d'uso del suolo su servizi invece che sono a livello di mappatura un po' più complessi anche da interpretare ovvero tutti quelli in cui l'intersezione con valori ambientali di classi d'uso del suolo hanno anche a che fare con l'interrelazione per esempio con distribuzioni che derivano dal modello digitale del terreno quindi tutti i modelli che riguardano per esempio le attività di filtraggio delle acque, dei nitrati per esempio in questo caso oppure le cartografie che riguardano l'erosione dei suoli dove per necessità di ricerca sappiamo bene che per esempio le aree dove questo servizio viene generato non sono le stesse dove questo per esempio può venire o viene goduto dalla popolazione stessa quindi c'è anche una traslazione di questo servizio che genera una difficile interpretazione per chi poi deve trovare nello strumento urbanistico ovvero nella variante diciamo un adattamento di queste scale, queste carte tradotto proprio poi in mitigazioni o compensazioni ambientali dei possibili consumi di suolo dico anche per onestà che diciamo la bibliografia scientifica che riguarda la sensibilità degli input rispetto a queste mappature indica chiaramente che possiamo avere dei risultati potenzialmente molto diversi addirittura che nel variare un input di questi software l'output può raddoppiare se non triplicare, se non quadruplicare in alcuni casi quindi è vero noi come dire oggi parliamo di mappature dei servizi ecosistemici siamo già molto sbilanciati anche sul versante economico credo che il professor Santolini probabilmente parlerà anche di questo ma siccome i valori economici dipendono anche dalla mappatura biofisica dal punto di vista scientifico credo che molto lavoro debba essere fatto cioè è un ambito di ricerca che è piuttosto aperto e per questo credo che la condivisione metodologica sia in questo momento molto importante dico che quest'analisi dei servizi ecosistemici si è portato comunque rispetto ad un arricchimento rispetto al tradizionale repertorio di cartografico a supporto per esempio della valutazione ambientale strategica di definire le aree dove le trasformazioni degli usi del suolo generavano maggiori impatti o meno impatti e questo ovviamente ha suggerito le politiche più corrette da adottare in sede di adozioni di queste varianti strutturali o generali rispetto agli strumenti urbanistici abbiamo utilizzato delle cartografie, delle metodologie che ci hanno fatto scoprire per esempio dove avevano delle distribuzioni di questi servizi ecosistemici statisticamente rilevanti cioè le aree, in rosso in questo caso, dove elevati valori ecosistemici erano compresenti e quindi in quel caso potevamo costruire delle prime strutture diciamo di quelle che si chiamano reti multifunzionali o potrebbero diventarlo è chiaro che si tratta di un approccio metodologico cartografico non ha nulla a che vedere con la costruzione di un repertorio di diritto poi una rete verde o ecologica comunque deve interfacciarsi con le previsioni con la conoscenza delle pressioni ambientali quindi è solo un passaggio metodologico però è diventato importante aggiungo questo secondo caso perché cambiando completamente di scala qui dalla mappatura dei servizi ecosistemici quello che si è cercato di fare nell'ambito della redazione quindi riedizione del piano paesaggistico lombardo è stata quella di conoscere diciamo con maggior dettaglio non tanto e non solo la distribuzione di nuovo di alcuni servizi di supporto come in questo caso questa è una carta della qualità degli habitat fatta sempre con un software che è quello di Invest che è stato utilizzato anche in altre ricerche che è uno dei più utilizzati per le mappature dei servizi ecosistemici ma abbiamo provato anche a verificare quale fosse la qualità anche paesaggistica dei suoli agricoli quindi del comparto che come dire non aveva valori naturalistici molto elevati ma dal punto di vista della qualità della produttività agricola di cui si è parlato stamattina e della qualità stessa del paesaggio agricolo quindi delle parti in cui i valori storico-culturali erano molto integrati a questo paesaggio si distribuivano rispetto a quello che è il paesaggio della campagna irrigua e asciutta lombarda e questo lavoro di distribuzione l'abbiamo fatto anche per i paesaggi costruiti non solo quelli, gli spazi aperti gli spazi liberi, naturali o agricoli andando a verificare quelli che fossero gli indici principali di porosità frammentazione, forma cioè quegli indicatori che sono stati visti anche per il piano regionale, piano paesaggistico della Puglia che sono stati comunque indagati all'interno del rapporto sul consumo di suolo, che però ci fanno capire qual è la distribuzione dello spazio costruito non solo dello spazio aperto la cosa che dicevo aver fatto, questo a mio parere come dire, la differenza nella costruzione di una rete verde per il piano paesaggistico è però la conoscenza di quelli che abbiamo chiamato elementi di minaccia cioè la conoscenza di fatto delle pressioni ambientali non solo delle qualità quindi questo è un elemento che probabilmente caratterizza la rete verde anziché essere una rete esclusivamente di tutela come la rete ecologica che cerca soprattutto di innestare come dire, processi di trasformazione paesaggistica o di tutela paesaggistica nelle aree in cui le pressioni sono più sono più forti, più consistenti pressioni che riguardano il comparto agricolo il comparto agricolo sta vivendo con delle matrici di trasformazione abbiamo spazializzato i processi di semplificazione culturale oppure quelli di abbandono o di rimboschimento che però erano un rimboschimento recente quindi una colonizzazione non matura delle aree boscate che rappresentavano comunque un elemento di minaccia oppure i processi di pressione o di degrado paesaggistico generato dalle previsioni trasformative dei piani lombardi questa è una distribuzione di tutte, diciamo, degli areali su cui ci sono delle previsioni edificatorie che non hanno ancora trovato attuazione nello scenario regionale e abbiamo cercato di fare in modo che queste pressioni e previsioni insediative trovassero poi una rappresentazione anche cartografica piuttosto semplice in maniera tale che diciamo la previsione della nuova rete verde tenesse da conto il fatto che la rete doveva garantire degli affondi di progetto soprattutto nelle aree in cui questi processi di degrado potenziale erano più presenti allora concludo dicendo che in questo caso come dire il progetto il progetto territoriale è stato un progetto che certamente ha tenuto conto dell'analisi ecosistemica perché siamo partiti da mappature di differenti servizi siamo partiti da mappature di differenti servizi che appartenevano a categorie di servizi ecosistemici differenti e quindi siamo riusciti anche a caratterizzare le aree della rete verde che garantissero più o meno valore naturalistico più o meno valore rurale o agricolo più o meno valore storico culturale per esempio e abbiamo poi cercato però di declinare la parte di normativa della rete legandola prevalentemente ai sistemi delle pressioni pressioni insediative e pressioni ambientali questo perché perché questo lo spiegherà probabilmente molto meglio di me il professor Magnaghi ma perché il tema del diciamo del progetto della rete era un tema che si è rivolto prevalentemente nelle aree di margine della rete cioè nelle aree in cui la rete verde si interfaccia col sistema urbanizzato cioè dove le pressioni ecosistemiche le pressioni insediative prevalentemente sono più concentrate quindi il tema anche in questo caso del rapporto tra il disegno della rete verde e le azioni a supporto della sua implementazione hanno in tenuto conto soprattutto nello sviluppo delle schede d'ambito dei processi di degrado già attivi o di quelli che potrebbero diventare processi di degrado in futuro quindi concludo dicendo che come dire il supporto informativo e tecnologico anche che può essere integrato all'interno di strumenti di pianificazione ad oggi è a disposizione certamente la riflessione sulla sua interpretazione questa probabilmente non è ancora matura ma lo diventerà perché il lavoro sui servizi ecosistemici sta progredendo abbastanza rapidamente ma il punto più importante è che probabilmente quello che manca ancora ad oggi è proprio l'integrazione di queste mappature a servizio appunto dei progetti di territorio all'interno degli strumenti di governo del territorio cioè il passo finale per fare in modo che questa conoscenza entri all'interno dei processi di pianificazione è proprio quella di portarla all'interno dei piani alle differenti scale grazie grazie